nasce carosello ma non si sa esattamente come persino la rai fornisce tre o quattro versioni diverse veramente non si è mai capito com'è nato carosello però è diventato uno dei grandi miti del novecento soprattutto per alcune generazioni per alcune generazioni che si sono in qualche modo persino formate in parte su carosello che hanno imparato carosello cioè chi oggi ha dai 55 ai 70 anni ha in mente ancora degli slogan che sono l'ispettore rock che ha fatto solo un errore in vita sua quello di non aver mai usato la brillantina di netti oppure virnalisi che con quella bocca può dire ciò che vuole e ciascuno di noi ha in mente anche qualche musichetta di carosello quindi diciamo è stato molto importante nella storia del costume italiana però carosello non è stato ovviamente solo questo era un contenitore enorme di storie personaggi ha dato la notorietà a moltissimi attori dario foe franca rame calindri l'uomo del cinar via risio tantissimi attori trovarono in carosello diciamo anche una fonte di di reddito si narra che persino berlusconi avesse cominciato con carosello e lui stesso ha raccontato che gli avevano dato 11 mila lire per fare la comparsa in uno spot questo spot dovrebbe essere secondo i carosellologi perché esistono i carosellologi e il più grande di questi e marco giusti che ha analizzato uno per uno tutti tutti i video allora si chiamavano siparietti di carosello scoprendo alla fine questo in cui figura berlusconi e il regista pensate niente di meno era orson wells quindi ecco orson wells questo ci fa riflettere su carosello alla fine che cosa era so carosello non era un programma di pubblicità perché la pubblicità durava i 20 secondi di coda poi c'erano prima due minuti e 15 di film cioè carosello era una costola del cinema italiana i registi erano tutti anche alcuni che fingevano di non ricordarsi lo avevano fatto carosello non so vogliamo elencarne qualcuno paolo e vittorio tabiani lina vertmuller gillo ponte corvo ermanno olmi i bolognini come in cini dino risi tinto a brasso insomma ci potrebbe uscire quasi un oscar no ecco quindi certo facevano questi piccoli film questi piccoli siparietti con occhio distratto forse più per guadagnare che verrà però il risultato era artistico ed ecco spiegato il grande successo di carosello cioè era un prodotto di grande qualità